Fra te, se te pia, Ultimate Warrior, te schiaccia come una lattina. Aregà, ma se invece di pagare il conto se ne annamo in Tunisia come Bettino Craxi. Se hai un fidanzato puoi fargli questa battuta, senti. Eeeh, te volevo di sta cosa, me so scopata Bruce Willis. Ciao, sai come si chiama il cinese che sta sempre in ritardo? Sto, arriva. Se in discoteca incontri un ragazzo che ti piace, puoi dirgli, non so se ho gli occhiali appannati, oppure sei proprio un cojone. Ciao, mi chiamo Francesco, ti va di venire a casa mia a vedere Beverly Hills? Che magari poi se baciamo è, sbam. Ciao, non sei bello, ma mi affascini. Perché fai la densità giusta in mezzo al campo? Se incontri un ragazzo con dei pantaloni colorati, puoi dirgli, Oh ma dov'hai con sta salopette? Che pari Alberto Tom? Se ti chiami Luigi, puoi rimorchiare dicendo la battuta, ciao, io sono Luigi. Oscar Luigi Scalfaro. Ti sospendono la patente e dice, è stato Gesù per salvarti da Cadi per terra e dice, è stato Gesù per insegnarti che Te cadono i tortellini quando li scoli e dice, non faccio fatica a immaginare che è stato Gesù così mani de meno A o a Gesù, io te ringrazio. Però hai pure rotto il cazzo.